Bel video! Molto cringioso e vaffanbe! Ma buon salve a tutti ragazzuoli! A tutti, tutti, tutti ragazzi! Oggi come vedete da questa fantastica schermata siamo su pochi.it Ok? Che è un sito molto strano di gaming Con decine, che dico centinaia, ma centinaia di giochi Ok? È una specie di play store online, quindi tutti quanti giochi online Che non necessitano di essere scaricati Quindi è proprio un sito in cui giochi a questi giochi qua Che sinceramente non oso immaginare di che qualità siano Però noi li proviamo, tipo, qui vedo, un dinosaur game Che è quello di quando internet non fa Io perché dovrei giocare a questo? Tra l'altro, vabbè, perché ci sono 9300 persone che non hanno apprezzato? Cioè... Cioè, è il gioco di Chrome! Niente in più, niente in meno, ragazzi! Cioè... Nooo! Non ci voglio credere, sono moruto! Vabbè Perché uno ci dovrebbe giocare? Non ho capito Però, vabbè Eeeh... Cos'è sto Riorex? 47000 non mi piace È un gioco molto bello Nooo! Vabbè, ho capito già com'è Non c'è nessuno di quei giochi di merda Eh, sì, no Sì, no Sì, che fa schifo Mad Guns! Guns, proprio Guns, con la Z Mad Guns Ho anche il mio bel pad qui in mano, però Non so se mi possa servire È tipo... Minecraft Fortnite Preparing Game No, questo qui ci gioco Anche se mi si dovesse mettere tre anni a caricarsi, ci gioco Bella Oh, eccoci! Ok, a cam... Nooo! Vabbè, crea Login Mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Va bene No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ok Error Not need Vabbè, not need Vai Mad Guns Pdlink Ltd Passo So Ti cattura Criceti Per il Lancia Criceti Ma che è sto roba? Versione 2.1.0 Laga, quindi c'è anche la 2.1.0 Vabbè Non credo di voler giocare a sta roba, però Che cavolo è? Dai, parti, però Niente, non parte questo gioco A quanto pare Però qui vedo altra roba molto più interessante Come Ad esempio Non è vero, non c'è nulla di interessante Però prima avevo letto Mini Royale Non mi ricordo bene Ecco, Mini Royale 2 2, ragazzi, 2 Quindi c'è anche l'1 C'è anche l'1, ragazzi C'è anche l'1 Mini Royale.io Ok Versione 1.0.120 Ok, qui c'ho il mio controller Wow Questo qui si pronuncia un gioco fantastico Join community No, grazie Play now Battle Royale mode Vai Sarà veramente un gioco bellissimo Blue Team o Red Team? Non è un Battle Royale Red o Blue Vabbè, Red, dai Oh Ok Ma c'è un botto di gente che ci gioca, raga Non l'avrei mai detto Sono tutti livelli bassissimi, però Ok 3 2 1 Go Cos'è sta roba? Ok Scegli un'arma Oddio Datemi sto scar Dai No, non ho preso lo scar Ok Non si può giocare col controller Bene, ok L'ho scoperto proprio adesso Che arma ho? Ok R per ricaricare Ok, sì Raga E' proprio un Call of Duty Un cattore alla zona di lei Come si cattura? Oh Ah, no Ok Forse noi siamo i rossi Pensavo che i rossi erano i nemici Quindi Ok Quello chi è? Ok, no Poca amico Ok, è strano perché i rossi sono quegli amici E i blu sono quelli cattivi Quindi è un po' tutto al contrario Però Dice uno Io sono scarso Come si abbassa con un C tipo Si può abbassare Ma non si può passare sotto i camion Senti quanto salta È stranissimo Vabbè Ok, andiamo di qua Ma dove sono quelli? Oh, ragazzi Ok Torno alla base Alla bandiera nemica Ok Devo tornare alla base E qui c'è il tifo con la nostra bandiera Uh Mori Ricarico Bene Uh Mi spanno Inchia Sciolto Bene Andiamo, andiamo Torniamo alla base Torniamo alla base Forza, forza Ok, salta Vai amico Grande Vai Grande Bandiera catturata 1-0 Mi sto appassionando al gioco ragazzi Un minuto Abbiamo vinto Oh Eh vabbè Quello era un blu You want to report user? No È sempre più forte di me Ciao Ok Ok, quello mi sto per la nostra bandiera Muoviamoci Tu Muori Ok Morto Ho due kill Ok Muoviamoci ora Quando salta Fa un rumore stranissimo Manco Inf 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 Manco su minecraft Quando muori Inf 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 Comunque Vabbè Sei vivi Bandiera Ce l'ha già quello lì Aspetta Ok, ho la bandiera io Bellissimo Devo correre ora ragazzi Devo far segnare Abbiamo vinto Vabbè Abbiamo vinto già 3 2 1 Abbiamo vinciuto Bene Ragazzi abbiamo vinto Un bellissimo gioco Ma dopo Mini Royale 2 Perché non giocare A Mini Royale 1 Ovviamente Ok Forse questo è un Battle Royale Vero e proprio E non Un Call of Duty Finto Ok Username Unzio 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 belli Server europei Perché ci sono anche quelli russi No Fin da match Vai Ragazzi Quel tizio C'ha una grafica Veramente Una texture Raga Fa un casino Sudo Oh Ragazzi Facciamo un casino Per stare l'idea Oh Ragazzi Ho passato un po' il volume Perché facevo un casino Senza idea Non so se voi lo sentite Ma se io ce l'avevo Un gran casino Ok Qui c'è un cecco Quello invece è Uno assalto Non posso portare Due armi Ma seriamente Vabbè Allora Non c'ho I colpi Bene Quindi forse è meglio questo Un bello scar Colpi Please Ok forse dice roba Perché non posso salire Non posso salire Ok eccoci Ok qui cos'è F Ok qui c'ho un Uzi F Mi servono colpi Mi servono colpi da spararlo R per ricaricare Non c'ho colpi Non c'ho i colpi Raga Non c'ho Dove ti trovi i colpi Ok qui sono dei colpi Bene Questo è meglio forse Ok Ho 35 colpi Ho 35 colpi nel caricatore Bene Posso andare a conquistare il mondo Quanti siamo? Siamo in due Già Siamo in due In due 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 Ma veramente? Ma così tanto mini Che siamo già in due? Vabbè Vabbè Questi qui sono i Uh eccolo No Sono moruto io Unziobelli Vabbè Che gioco di merda Però vabbè E' proprio un bello Dai Build and crash Gioca e distruggi tipo No Vabbè Combat online Oh questo mi ispira Combat online Oh Questo mi sa carino Mi sa tipo un counter strike Finto Però guardo Se sarei distruggi Ragazzi Tutto alla perfezione Dicevo Mi sa di counter strike Finto Però mi ispira Raga Perché non so perché Però mi piace Aspettiamo il caricamento Ah scherzavo Ci ho messo un secondo Username Ma veramente? Eh vabbè Create account Facciamo username Mettiamo Unziobelli Vabbè Password 1234 Vediamo se effettivamente Esiste Un Unziobelli Cos'è unziobelli Non so che cazzo sia Google Vai Unziobelli Unziobelli No Ok È un nome nuovo Quindi Unziobelli Sarà la mascotte Il mio canale Allora 1234 In mail Facciamo Unziobelli Unziobellu Chiocciola Gmail.com Registrati Ok Ok Ho creato un account Bene Login Server Europei Con la bandiera tedesca Benissimo Vai Ok Team Deathmatch Vai Uniamoci a questo Team Deathmatch Join Room Vai Ok Ci siamo Ok Eccoci Team Red Vai Ok Uh Sto giocando col controller Ma non si muove la visuale Quindi giocherò col quattro C'è Con quattro Tira Ok Un'arma Eh vabbè C'è anche l'arma Non stavo giocando Allora Nardi è brutalmente alto Ok Ma Ok F Bene Vai vai Ok Ci stanno Veramente distruggendo Oh Raga Non c'ho armi Oh Raga Un'arma Ok Uno scar Bene Uh Filo Uno Quanti Headshot Quanti Headshot Ci vogliono Per tirare uno Ragazzi Il volume È brutalmente alto Sì Bello Questo qui Camperata Ammazzarci Guardalo Guarda Guarda Oh Forse ho creato qualcuno Madonna Ma quant'è alto Lado Sti giochini Credo che Poi ve l'ho abbassato Sicuramente No Comunque Fa veramente schifo Raga Questo qui È veramente penuso Come lo levo Ok Si è tutto La scuola Benissimo Come tolgono Vabbè Comunque Fa veramente schifo Sto gioco Raga Veramente Orribile Gangster Contact Mafia Wars Vabbè Nacco per di GTA Come poteva Giochi di GTA Carstreet Tank Edition Hammer 2 Carstreet Ma che è Black Gangster Warfare Tutto insieme Hanno fatto Dai Che ca... Uno Giochi di GTA Giochi di sparare Giochi di sparare Mad Guns Non no Ma se io tipo volessi Kid Wow Paper.io Accetto dai Paper.io Come mi chiamano? Ah no Facciamo Unziobelli 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 Vai Con la pizza Vai Con la pizza Vabbè raga Cioè ho fatto Un po' di roba Sono Cosa qui Sono Che cazzo sarà Terzo Sì Sono terzo Vabbè Giochino Carino Diciamo Terzo Anche Vabbè Ci ho già giocato a volte Ma fa Fabbè Fabbè È un po' una palla Guardalo Che figo Slipers Sliter Io Pinto Guardalo Snake MLG Edition Sì Bello Giochi di moto Giochi di guerra Giochi di calcio Giochi per ragazze No? Andiamo a vedere Quindi Questo qui è un gioco per ragazze No? Non credo Sliter Io Cosa dei cupcake Ma che è? Stickman hook È un gioco per ragazze Dog simulator? Dog simulator Seriamente? No Non è quello che penso io C'avevo un gioco Simile Sulla PS2 No Non è questo Fanno culo Dog simulator Eh vabbè Vabbè Giochi di fidget spinner Ma seriamente? Superspin.io Da Jettigamers Chi non conosce La Jettigamers Famosissima No? Ok Eh caro gioco Se vuoi partire Io sono qui Eh Superspin.io Eh Allora Sei pregato di partire Mio caro Superspin.io Superspin.io Parti Vabbè Non parte Uh Eccolo Eh Vabbè Ormai Funzio Funzio belli Funzio belli Senti una skin No Ci metto un secolo Per caricarlo Vai Building spinner Ma che è Cioè E slitterio Ma con i fidget spinner Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Non capisco raga Questa qui mi ammazza Perché è livello 55 Sono di meno In teoria Guarda sto Lara Livello 265 Che voglia devi avere Vabbè Che giochi abbiamo Ah Il classico Slitterio Che è sta roba Gelmoji Che cazzo è Giochi di costruire Giochi con il mouse Cosa vuol dire Giochi con il mouse Mope.io Ma che scuola Ispira un sacco Pugillatore Sblocca flash Dai Dai Che palle Ma che cos Ma che se ne frega Dai POMU POMU POCHI POMU Ma che I giochi belli I nomi belli Più che altro No Giustamente Niente L'ultimo gioco A cui volevo giocare Non si può giocare Fan cool Non è possibile Non c'è più Nura da fare Qui quindi direi di ripiegare Sul sicuro Star Wars Ormai Star Wars È un marco di fabbrica I giochi I giochi I giochi Lego Star Wars Quelli online Sono bellissimi Quindi Anzi dai Giochi Lego Online Vediamo Lego.com Andiamo a vedere Andiamo a vedere Dei giochi online Carini Ok eccoci qua Schermato Schermato Sono davanti Identica Pochi Con pochi giochi In effetti Non fa ridere Vero? Eh no Comunque veramente Ha pochi giochi Raga Ne ha tipo 6 No 6 no Però No fa piccare Sto robo Raga Non c'è nessun gioco Vabbè Videogiochi Per pc E console Lego Vai Area giochi Inizia a giocare Vai Voglio giocare Video Giochi Personaggi Set Cosa vuoi di set? Posso comprare Lego veri Finti però Set Voglio i set Eccoli set Le Wow Che io le posso Costruire Ma è il sito Della vita Wow Questo qui voglio Vai Raga Se li posso Costruire Passerò Il resto Della mia vita Qui Scarica Le costruzioni Con le istruzioni Ah Scarica Dai Ma sono tipo Delle istruzioni Ma che me ne faccio Di sta roba Scusa Eccolo qua Ma Ma che cazzo Ma cosa è Ma chi le vuole Le istruzioni Sì guarda Le istruzioni Passo per passo Per costruire Questo furgoncino Stristissimo Ma perché Ma dai Ma 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 Mi ha fatto Fatto avere Stai lasciando Ora bambini Continua Continua No Oh mio dio Forse Era meglio Tornati Galeone Dei pirati Impostazioni Dei cucchi Vabbè Certo Wow La voglio Sta Lamborghini È una Lamborghini Sì Ok Espandi il loro universo Harry Potter Credo Wow Avenger Solo un periodo limitato La pluripremiante Ah perché c'è il virus Ah vabbè Sì certo 104 euro C'è lì Ho per Comparso Galeone Orribile Perché poi Guarda quanto è brutto Prendessi messo uno Bello È bruttissimo Vabbè Ah ma Mi sa che sono Di education Ma guarda Questo qui Quanto è brutto E costa 400 euro Lego Mario Ma Ma seriamente E Vabbè Fossi di dinosauro Tipo 60 euro Io con 60 euro Ci c'è Ci compro Call of Duty Ci compro Un Call of Duty Nuovo di Zec Con 60 euro Supporto Istruzioni Parti mancate Che figo Se non c'è un pezzo Cioè Tu vai qui E gli scrivi Che ti manca un pezzo Loro te lo mandano Ma che figata L'assistenza L'assistenza clienti Della Lego Mattoncini mancanti Mattoncini rotti Ma che figo Ok Ora Sarò un collezionista Di Lego a vita Ma che è Sto 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 Amazon Guarda Che figata Mattoncini rotti Dai Quanti anni hai Uno Dove abiti Italia Ma grazie al cazzo Facciamo 15 Anzi 199 Vabbè Prima che 9 23 Avanti Vediamo Vai Inserisci Il numero Del set Una A casa Ne metto No Nessun risultato Mettiamo Due Ah vabbè 6 6 7 7 5 4 Nessun risultato Così c'è Nessun risultato Così Nessun risultato Nessun risultato Non so come sono fatti Vabbè Via da questo sito Perché noi dobbiamo giocare ai videogiochi Non comprare il Lego Però questo è quello per bambini Quindi creator Minecraft Lego Minecraft Giochi Vai giochi Quale No Vabbè Giochi Lego Bellini Brutalmente orribili Ma bellini Questo qui cos'è Questo R2 Enorme L'ultimo Jedi Esperanza 360 gradi What Star Wars Interactive No E' un video interattivo Non è un videogioco Legal Ma grazie che è legal Oddio Quale è quella roba lì Non è che c'è tipo il microfono attivo Vabbè 99% Sarà un video lunghissimo Play Wow Ma che figo Ma che figo Guarda Effetti speciali da Oscar Salve Wey No Geniale Ok poi Di là Di là Di là Wow Oddio Ok Si è schiantato qualcosa Ce l'ha fatto Dio Wow Abbiamo anche altri Altri video Questo Vediamo questo com'è Qui è un altro scenario però Ma che figata raga E' proprio figo E' un video interattivo Non è proprio un videogioco Però Qui Devo venire qui Ok Ora First order Heavy assault worker Lo so Ok Vai via Ok Ok Oddio Ma dai Ma che è Ma no 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 dai E' una rottura Sto gioco No Per come su full screen Via E' un gioco Noiosissimo E brutto Proprio detto Proprio Alla maniera Meno educata Del mondo E' una merda Veramente E' una rottura Dopo 10 secondi Sto gioco Per quanto Bellissimi I giochi Lego Quello li fa Veramente Schifo Vediamo questo Sembra tipo Un super mario Qualcosa del genere Non so Personaggi Ok vai Guardiani della galassia Forza Giochiamo al guardiani della galassia The guardian of the galaxy Oh madonna Caricamento Veramente Guardiani della galassia Più veloce di quello di gta 5 Io dovrei stare qui 6 ore Aspettare Guardiani della galassia Guardiani della galassia Guardiani della galassia La musica Attenzione Ok con le freccine Wild no Wild niente Oh No niente Wild Vai E' un vero peccato Che voi non sentite L'audio Perciò di questa musica Orribilmente brutta Guardate raga Super mario Vattene Sono arrivati i golli della galassia Vai Quante Quante Impossibile Con le freccette Vai Vinci per noi Ok qui c'è una roba Si è buggato Ok vai Prendi l'arma Forza E ora Spazio Con spazio si spara Bellissimo gioco Peccato che non c'ho 4 anni Però bellissimo gioco Vai Uccidiamo anche questo Non si può uccidere Malissimo Ma benissimo Forza Corri Correte Forza Spariamo Si è aperto Benissimo Usciamo di nuovo Forza Siete la musica Fantastica Abbiamo vinto Vai Ok Chi voglio essere Vai Forza Vai Fox Vinci per noi Ma quanto è brutto Da 1 a 2 C'è un cattivo No Ok diciamo Benissimo Comunque direi che questo video Bunghi Chiudersi qui Con questo fantastico Fox Che fa robe Fa robe molto brutte Muori cattivo Sono tipo immortali Il gioco che si rallenta Quando muori È brutalmente bellissimo Perché lui non spara bene Ok eccoci Vai vai guarda Spari in un modo bruttissimo Vai sali Vabbè non sale Giù Eccoci Muori guardia Guardia Ok è morto Qui ci si vede l'altro Muori anche tu Non si può nessuno È un gioco veramente fantastico E fighissimo Lo giocherei la mattina alla sera Altro che Fortnite Muori Muori È muoruto Perfetto È muoruto Ok Clicchiamo Si è acceso l'ascensore Molto bene Dobbiamo andare giù Benissimo Andiamoci Scendi Stupido Ok Andiamo Forza Salta E corriamolo su Avanti Ci siamo Forza 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 Gioco bellissimo Avanti saliamo Tutto a destra Cattivo Muori cattivo Siamo per di sotto Malissimo Inizia a farlo spammer Vai Spammiamo Ed è muoto Forza di qua Ok Bisogna andare di qua Perfetto Sali Benissimo C'è anche l'ultimo bene Non bene Non bene Vai Perfetto Vai Bellissimo Gioco Ho una nuova arma Bello Ok Ora che devo fare Non lo so Ci buttiamo sotto Ragazzi Bene Andiamo giù Anzi su Anzi su 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 le mani Vai Bel video Molto cringioso E vaffanbe Ragazzi Sto video è epico E' tanto bello Con Unzio Belli Ragazzi Ora Mi inventerò Una faccia Per Unzio Belli E E niente Ciao Ciao